Capisci perché odio i social media? Non si ha alcun controllo su ciò che viene pubblicato. E chiunque può ricamarci sopra quello che vuole. Non avevamo neanche iniziato a indagare. Quella foto mi fa sembrare un pessimo poliziotto. O peggio ancora, sembro disinteressata. Andiamo, Beckett. È solo internet. Nessuno prenderà sul serio quella foto. Dillo ai miei superiori. Ascoltami, passerai sordina. Credimi, con i milioni di post che pubblica la gente, quella foto è soltanto una piccola goccia nell'oceano virtuale. Sai qual è il problema dell'anonimato? Non c'è mai un responsabile. I vigliacchi sono spronati a fare i bulli, proprio come quest'omicida. Hai ragione. Spesso il bullismo è messo in atto da chi l'aveva subito. Forse quest'uomo si scaglia contro internet perché era stato usato contro di lui. Era stato vittima dei social media. E Bill Garrett era nell'anticrimine informatico, mentre in mezzo a lui non può essere stato un caso. Abbiamo indagato su quelli arrestati da Garrett. Mentre invece avremmo dovuto indagare sulle vittime dei suoi casi. Chiamo Garrett e gli chiederò di controllare le sue vecchie pratiche. L'assassino lo troveremo lì. Ancora non si spiega come è entrato nel negozio di Garrett o nell'auto di Cam.